Ok, buona serata a tutti, io sono Andrea Artioli, faccio parte del gruppo di hacking qui di Conoscere Linux di Mutina Pwn e oggi facciamo una deep dive in un argomento orripilante che è Kerberos in ambiente di Active Directory e adesso scoprirete perché. L'agenda per la serata parte ovviamente da dare giusto le 3-4 nozioni di Active Directory che ci servono per poter parlare poi appunto di Kerberos, che è il protocollo di autenticazione di default e daremo poi un'occhiata alle interazioni base per potersi autenticare su Active Directory con Kerberos daremo un'occhiata alle KDF che sono utilizzate e che ci serviranno per fare altri ragionamenti e qui c'è un typo, perfetto, lo scoprò subito e daremo un'occhiata a delle tecniche di base per enumerare il dominio per attaccare Kerberos daremo un'occhiata anche a un altro protocollo di autenticazione di Active Directory che è in TLM che è il protocollo legacy perché come vedremo ci sono dei punti in comune che ci interessano poi anche per violare alcune cose di Kerberos e se abbiamo tempo arriviamo in fondo e non siamo tutti morti dopo questa roba qua e ho preparato anche un pezzo nuovo sugli attacchi alle deleghe in teoria ci sono tre tipi di deleghe che sono la constraint, la constraint e la RBCD però ho preparato solo la constraint perché vi garantisco che basta l'anza e niente, cominciamo parto con un piccolo disclaimer io non le so fare davvero queste cose nel senso io le ho studiate per gli ultimi due o tre mesi sull'academy di Hack the Box fondamentalmente è il motivo per cui ho anche la maglietta per cui esatto, nel senso io l'ho studiata questa roba perché mi piace fondamentalmente non sono di certo uno che fa questa roba di lavoro nel senso che effettivamente non ho mai fatto un penetration test non faccio parte di un red team ma insomma, è solo roba che pensavo che fosse interessante visto che ci impariamo sempre a fare le macchine Windows e cominciamo ad avere un po' di knowledge tutti quanti su come si fanno queste robe motivo per cui sicuramente dirò delle cazzate ma proprio palese quindi se sapete che una cosa che ho detto non è giusta non corrisponde a verità fermatemi, fatemi domande ditemi, ragioniamo insieme insomma su queste robe quindi chiedete qualsiasi cosa mi piacciono i meme stupidi come potete vedere quindi se volete anche dire due cazzate mentre perché no Microsoft bimbos comunque sempre nel cuore va bene allora partiamo da Active Directory cos'è Active Directory? fondamentalmente è un prodotto della Microsoft per gestire delle reti di computer Windows quindi fondamentalmente lo scenario che vi dovete immaginare è che siamo dentro un'azienda verosimilmente questa azienda ha un sacco di computer motivo per cui di solito computer e utenti motivo per cui di solito Active Directory in realtà si implementa nelle aziende medio-grandi di solito non c'è nell'aziendina di Peppino il Fornaio ok? ed è una ed è un prodotto che funziona in maniera centralizzata cosa vuol dire? fondamentalmente c'è un meganodo di controllo che è quello che si chiama domain controller che va configurato bisogna mettere lì dentro tutte le informazioni necessarie per far funzionare la rete come dovrebbe e questo domain controller tipicamente è run a un'istanza di Windows Server che è quindi il sistema operativo che gira su questa macchina che tecnologie ci sono dentro Active Directory? tantissime quelle che più o meno interessano noi sono LDAP perché LDAP? LDAP è un immaginatelo come un linguaggio di query per fare delle query al database del domain controller dentro al domain controller c'è questo mega database che contiene tutte le cose che ci sono nel dominio quindi che account ci sono, che macchine ci sono permessi, configurazioni, group policy, tutto quanto è ficcato lì dentro e con LDAP fondamentalmente voi potete fare query ok? quindi se siete autenticati nel dominio potete fare delle query per ottenere delle informazioni sul dominio stesso questa se siete fuori dal dominio se siete degli attaccanti che vogliono ottenere informazioni sul dominio questa è la prima cosa fondamentalmente da andare a cercare una volta che siete autenticati andate a fare delle numerazioni tipo con Blowdown Blowdown usa LDAP per ottenere le sue informazioni fondamentalmente esistono anche delle misconfigurazioni che vi permettono di fare questo tipo di numerazione anche se non siete autenticati e sono le anonymous session fondamentalmente le corrispondenti dell'anonymous session su FTP esistono sia per LDAP che per MSRPC sia anche per Samba qualsiasi delle tre è riuscita a trovare aperta quello è un buon punto per poter fare numerazione del dominio e avere da fuori comunque informazioni su tutta la struttura del dominio anche se non siete autenticati a niente perché? sì perché no alla fine MSRPC è l'implementazione Microsoft invece di RPC Remote Procedure Call è un protocollo immaginatevelo come un protocollo per cui voi potete far fare a chi ha un servizio RPC aperto tipicamente il domain controller è il protocollo grazie alla quale gli altri client fanno fare le robe che gli servono al domain controller ok? vedremo dopo perché questa roba ci sarà utile e Kerberos e in TLM come avevo anticipato prima sono i due protocolli di autenticazione Kerberos è il protocollo di default nelle versioni moderne insomma di Windows Server di Active Directory e in TLM è necessario più che altro per gestire il protocollo legacy fondamentalmente quindi questi due sono le cose che vogliamo andare idealmente ad attaccare come attaccanti se non abbiamo la possibilità di fare numerazione in nessun altro modo come dicevo prima da Active Directory fondamentalmente possiamo gestire tutto quanto utenti, gruppi, macchine, shares quindi cartelle condivise eccetera nota importante riguarda utenti e macchine perché sono importanti utenti e macchine? perché in Active Directory non c'è una vera e propria distinzione fra utenti e account macchine gli account macchine in teoria dovrebbero essere quegli account che rappresentano dei computer quindi delle postazioni ok? o comunque dei server delle macchine in generale di fatto sono degli utenti cioè non c'è una vera e propria differenza nel senso che gli date un nome gli date una password e voi potenzialmente potreste loggare su quella macchina dando come un nome utente la macchina e come password la password della macchina di default quando create quando create delle macchine su Active Directory il loro password se non specificato altrimenti è un blob indessabile quindi sono password tipo lunghissime ad alta entropia sono buone password se vi capita di dover crackare delle credenziali non crackate le credenziali degli account macchine perché sono tipo incraccabili piuttosto concentratevi su quelle degli utenti ok? a meno che ovviamente non abbiate la certezza matematica che una password di un account macchine sia stata settata da un essere umano e che quell'essere umano utilizzi regolarmente quella password in tal caso allora potrebbe essere il caso di provare a brutare una password del genere altra cosa che ci interessa particolarmente sono i servizi ovviamente all'interno di una di un'azienda ci sono dei servizi che devono essere erogati per far funzionare l'azienda fondamentalmente o comunque per far funzionare l'apparato IT come funzionano i servizi su Active Directory voi immaginatevi i singoli oggetti che ci sono nel database che possiamo interrogare con ldapp questi oggetti possono avere delle proprietà ok? una di queste proprietà si chiama Service Principle Name SPN se questa proprietà è settata a una qualsiasi cosa allora quell'oggetto lì è un oggetto che eroga un servizio ok? chi è che può erogare un servizio? un utente e una macchina ok? questi due tipi di oggetti qua se ha un qualsiasi cosa settata nell'SPN allora qualcosa lì è eroga un servizio anche questa cosa tenete la mente perché ci tornerà utile più avanti quello che ci serve a sapere di base di Active Directory è questo per il momento arriviamo quindi a Kerberos e allora Kerberos come ho detto prima è il protocollo di autenticazione di default perché si utilizza Kerberos qui? bella domanda allora di base ci sono molte analogie con uno la struttura di Active Directory abbiamo detto che è una struttura centralizzata c'è questo domain controller che controlla tutto quanto in Kerberos più o meno è la stessa cosa c'è un ci sono due servizi principali ok? che appunto in realtà in Active Directory è tutto concentrato sul domain controller attraverso la quale tutti i client possono fare autenticazione quindi anche esso è un protocollo centralizzato i due servizi principali sono chiamati AS e TGS AS sta per Authentication Service e il TGS Service è il Ticket Garanting Service noto anche come Key Distribution Center questi 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 servono fondamentalmente sono diciamo nomenclature legacy dell'RFC di Kerberos che è del 2005 di fatto io parlerò di domain controller perché questi due questi 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 sono separati di fatto sono implementati come un unico servizio sul domain controller un altro motivo per cui Kerberos probabilmente è stato scelto è perché questo protocollo qua funziona attraverso quelli che sono chiamati tickets i ticket sono fondamentalmente immaginatevi come del dato cifrato ok ci sarà della criptografia in questa presentazione spoiler dato cifrato che chi riceve questo dato chi riceve questo ticket non può decifrare non può modificare in nessun modo semplicemente lui deve prendere questo dato e consegnarlo a chi di dovere per fare le sue cose di autenticazione esistono due tipi di ticket TGT ticket granting tickets fondamentalmente è un ticket master attraverso il quale un client va a chiedere i ticket singoli per i servizi al domain controller questi singoli ticket per i servizi sono i TGS Ticket granting service motivo per cui questa nomenclatura fa schifo perché ci chiamano uguali praticamente però qua appunto vi ho detto parlerò di domain controller qua invece uso proprio TGT e TGS dicevo perché Kerberos è stato scelto perché questo meccanismo in realtà è molto simile a un meccanismo interno di Windows che utilizza per autenticare gli utenti localmente durante il controllo per esempio dei permessi nei processi cioè su Unix c'è JID e UAD in Windows c'è un meccanismo analogo a questo con i ticket fondamentalmente c'è un ticket dove ci sono elencati i permessi dell'utente che vanno controllati con le ACL della risorsa che sta cercando ad accedere però funziona concettualmente in maniera molto simile il protocollo da RFC non fa asserzioni su che sistema operativo si sta usando su che indirizzi sono usati topologia della rete sicurezza fisica dei computer eccetera 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 l'unica cosa ovviamente che assume è che il domain controller non sia stato compromesso e un'altra cosa molto divertente che assume è questa gli attaccanti non possono brutare le password degli utenti perché le password sono buone no spoiler l'assunzione che cadrà sempre quando faremo tacchi su Kerberos fondamentalmente è questa cioè noi contiamo sul fatto che gli utenti abbiano delle password deboli in un qualche modo da fuori un attaccante se non ha modo di enumerare il dominio se non ha modo di brutare una password di fatto il protocollo non è rotto non è che un attaccante da fuori può autenticarsi così perché c'è un problema strutturale nel protocollo come dicevo questo protocollo si basa sui ticket che sono dei messaggi cifrati fondamentalmente sono cifrati con criptografia simmetrica quindi parliamo fondamentalmente di cifrare simmetrici AS RC4 eccetera DES però la criptografia simmetrica per poter funzionare richiede che sia chi parla sia chi riceve i messaggi abbiano la stessa chiave quindi devono avere in un qualche modo un segreto condiviso il segreto condiviso sono le password e perché questa cosa ha senso in questa architettura perché il domain controller quando viene configurato per gestire tutta la rete di fatto noi andiamo a configurare gli account degli utenti e quindi le loro password quindi il domain controller le password ce le ha gli utenti devono digitarla quando fanno il login quindi anche le singole postazioni client hanno la password dalle password vengono applicate delle cosiddette key derivation function sono delle funzioni che da un certo input derivano delle chiavi tipicamente per criptografia simmetrica sono deterministiche quindi stessa password otterrete sempre la stessa chiave cambiate anche solo un bit della password e la chiave è completamente diversa motivo per cui appunto questa soluzione vale effettivamente il client e il domain controller che è l'entità a cui bisogna autenticarsi hanno dei segreti in comune questi segreti in comune sono le chiavi derivate dalle password ok è ovvio che un attaccante se conosce la password può derivare la stessa chiave ok il trick è questo per quanto riguarda appunto gli attacchi brute force stando all'RFC questo protocollo è resistente a quelli che sono chiamati attaccanti adattivi quindi attaccanti che possono modificare pacchetti in transit o possono leggerli possono aggiungerne di nuovi eccetera tecnicamente è vero nel senso che come dicevo prima non ci sono degli attacchi strutturali al protocollo che ti permettono di autenticarti a caso grande nota dolente questo protocollo dal punto di vista del domain controller è completamente stateless perché questo è un problema cosa vuol dire intanto adesso guarderemo l'autenticazione di base se voi date un'occhiata al domain controller che sarà l'entità più sulla sinistra non cambierà mai di stato conoscerà sempre le stesse cose all'inizio dell'interazione conoscerà sempre le stesse identiche cose alla fine dell'interazione non c'è modo di capire in che stato si trovi semplicemente guardandolo e ignorando tutto il resto ok perché questa cosa è un problema è è un problema perché per esempio non riusciamo è molto difficile è difficile correlare i ticket che sono stati emessi a un certo tgt ok quindi se un attaccante per esempio mette degli ticket forgiati sono difficili da scoprire quali sono ok perché bisogna andare a vedere in teoria quali sono tutti i ticket che sono stati emessi dal domain controller però il domain controller non li logga non ci sono da nessuna parte li logga in maniera stramba è un casino puoi andarli a correlare questa cosa che cosa implica che è un casino riuscire ad applicare delle strategie di post compromissione cioè una volta che effettivamente siamo entrati siamo diventati domain admin che è tipo il super utente no di active directory è un macello dopo riuscire a capire che cosa è successo e chi lavora in blue teaming può confermare suppongo c'è un'altra cosa molto divertente di questo protocollo cioè che stando a rfc è un protocollo che è pensato unicamente per l'autenticazione nell'rfc è specificato anche che dentro ai ticket possiamo introdurre degli elementi che servono anche per fare il controllo dei privilegi quindi decidere che privilegi ha l'utente che sia autenticato non è scritto come è lasciato a chi vuole implementare il protocollo decidere questo meccanismo active directory lo fa utilizza Kerberos anche per il controllo dei privilegi con quello che viene chiamato PAC privilege attribute certificate cos'è il PAC? voi immaginate utente che si va a loggare dentro al ticket TGT quello master c'è un pezzo di dato cifrato che dice quali sono i gruppi di cui fa parte quell'utente e dai gruppi poi le applicazioni riescono a capire che privilegi effettivamente assegnarli se noi però possiamo forgiare ticket come vedremo ovviamente noi dentro quel PAC ci possiamo mettere quello che ci pare quindi quello è palesemente offrire il fianco a un attaccante che è in possesso delle chiavi per fare i ticket che è ovviamente questo caso qui cioè noi stiamo parlando di un attaccante che ha già compromesso l'infrastruttura e può fare fondamentalmente quello che vuole l'unico modo da RFC che ha Kerberos per difendersi da questa cosa è una blacklist sui TGT quindi una blacklist sui ticket master che non serve a niente se ci pensate perché un ticket master per essere in questa lista un difensore deve averlo visto almeno una volta ma se l'ha visto almeno una volta vuol dire che l'attaccante ha potuto chiedere un ticket e quindi poi devi proteggerti dal ticket che ha richiesto ma del ticket che ha richiesto cioè dei TGS non esistono blacklist del genere nell'RFC quindi cioè ma uno non penso neanche che sia implementato in active directory due non serve a niente fondamentalmente passiamo all'interazione di base e qui spiego proprio come funziona il protocollo noi siamo l'utente siamo il tizio azzurro questo è il domain controller che abbiamo detto che controlla che ha dentro di sé tutte le chiavi no? l'utente può derivare la sua chiave perché quando immette la password poi gli può applicare la funzione di derivazione è alla sua i service principal sono i servizi a cui ci vogliamo autenticare il nostro obiettivo finale come utente è autenticarci a un servizio fondamentalmente come ho detto all'inizio i service principal sono anch'essi degli utenti macchina o utenti effettivi non importa sono utenti per cui hanno anche loro una password per cui hanno anche loro una chiave perché basta applicare la kdf a quella password benissimo il setting iniziale è quello se ci fate caso come dicevo prima il domain controller non cambierà mai di stato rimarrà sempre qua quello che cambia di stato di fatto è l'utente cosa succede prima interazione questo primo messaggio è chiamato srack la srack parto col dire è nota anche come pre-authentication da rfc è opzionale perché sì hanno deciso che è opzionale in realtà di default non è opzionale su active directory è abilitata di default potreste trovare la disattivata pochissime volte da quello che ho capito non si disattiva quasi mai se è disattivata si può fare un attacco che vediamo dopo come funziona l'utente dice hey domain controller io sono questo utente qua faccio parte di questo dominio ti mando in chiaro e cifrato lo stesso dato questo stesso dato si chiama authenticator altro non è che il timestamp quindi utenti servizi e domain controller devono avere il clock allineato per poter funzionare perché altrimenti questo timestamp qui non ha senso nel senso che lui vedrà un tempo diverso da lui ed essendo che il timestamp si presuppone essere fresh quindi recente non avrebbe senso se non fossero allineati i clock questo timestamp è anche cifrato con la chiave dell'utente ok il domain controller riceve questo 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 timestamp cifrato dalla coppia utente dominio si va a prendere la chiave dell'utente decifra forse è meglio se resto qua decifra l'authenticator cifrato controlla che questi due siano uguali e questo qui ci dà la certezza dal punto di vista del domain controller che questi due dati siano identici implica che chi ti ha mandato questo messaggio effettivamente conosca la chiave dell'utente quindi sia in possesso dello stesso segreto se questo è vero se questo controllo passa viene emanato un TGT quindi il domain controller attraverso il messaggio di risposta S RAP eroga un TGT TGT abbiamo detto il Ticketmaster nel Ticketmaster c'è il pack quindi c'è la lista di gruppi di cui fa parte l'utente cosa c'è anche di interessante beh c'è anche una chiave di sessione effimera che è quella che qui ho rappresentato come chiave viola ok ma Marti mi dispiace però per i daltonici non penso che sia molto adatta questa però i colori sono questi questa chiave di sessione è cifrata dentro il TGT il TGT se ci fate caso però è cifrato in rosso quindi con la chiave del domain controller l'utente su questo qua non ha controllo non lo può cambiare in nessun modo di conseguenza non può cambiare neanche il pack l'idea qual è l'utente potrebbe manomettere il pack inserendosi in gruppi di cui non fa parte quindi guadagnare privilegi no invece perché è cifrato con una chiave che in teoria non conosce il client può recuperare questa roba sì perché può decifrare lo strato azzurro fuori che contiene la chiave viola in chiaro con la sua chiave personale quindi ottiene la chiave viola la chiave viola è la stessa che c'è dentro il TGT ok quindi è questa chiave che è contenuta qui dentro il trick per l'autenticazione qual è l'idea di dimostrare che l'utente conosca la chiave che c'è dentro il TGT perché se conosce la chiave che c'è dentro il TGT vuol dire che il messaggio prima l'ha decifrato bene e se l'ha decifrato bene vuol dire che anche lui conosce la chiave azzurra ok questa è una nuova interazione infatti abbiamo cambiato nome di messaggio questa è una TGS REC perché adesso noi il nostro obiettivo è di andare a ottenere il ticket per autenticarsi a lui abbiamo ottenuto il ticket master adesso dobbiamo ottenere il ticket singolo del servizio l'idea qual è? in realtà è la stessa di prima mandiamo un authenticator in chiaro e cifrato con la chiave di sessione contenuta dentro il TGT e ovviamente scriviamo l'SPN a cui vogliamo autenticarci quindi questo qua è il nome del servizio sarà lui ok mandiamo il domain controller cosa deve fare? decifra con la chiave sua il TGT dentro il TGT c'è la session key la session key è quella viola con quella viola può decifrare l'authenticator e riconoscere se è uguale a quello in chiaro nel massaggio e in questo modo quindi può avere la certezza che l'authenticator in chiaro corrisponda in più l'authenticator cifrato è stato cifrato con la chiave del TGT di conseguenza quello lì è un autente legittimo e quindi è autenticato ok l'idea qui è che se questo check passa allora questo utente è elegibile per poter ricevere un ticket di servizio che è questo qua è quello contenuto qua dentro il messaggio fondamentalmente è identico alla SR response semplicemente è cifrato con le chiavi diverse non c'è qua il TGT c'è il ticket di servizio il ticket per lui come è sviluppato questo messaggio in realtà è uguale a prima c'è una zona interna che è il ticket di servizio che è cifrato con la chiave del servizio vi ricordo che lui ce le ha tutte le chiavi quindi ha anche la chiave del servizio chiave di servizio cifra il TGS il pack quindi vi ricordo la lista di gruppi è copia e incollata da quella del TGT quindi se voi vi 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 mostrate al domain controller con un TGT che è stato in qualche modo manomesso il pack viene copia e incollato non viene ricontrollato ok e dentro questo ticket di nuovo c'è un'altra chiave di servizio che però stavolta non servirà come quella viola a far parlare loro due ma è quella gialla e serve a far parlare loro due quindi la chiave sarà poi il segreto condiviso che avranno l'utente e il servizio la stessa chiave è anche cifrata fuori con la chiave effimera dell'utente di conseguenza l'utente può recuperare sta roba sì perché decifra con quella viola lo strato esterno dentro quella viola c'è quella gialla e c'è il ticket vero e proprio ok quindi l'utente ha guadagnato la stessa identica cosa farà poi per andarsi a autenticare col servizio gli manda l'authenticator in chiaro è cifrato con la chiave effimera di sessione fra loro due il service principal quando riceve sta roba fa la stessa cosa che aveva fatto il kdc prima per decidere se l'utente era autenticato o no quando gli è andato il tgt quindi decifra il tgs dentro c'è la chiave gialla la chiave gialla la usa per decifrare l'authenticator e vede se è uguale all'authenticator in chiaro ok a questo punto l'utente è effettivamente autenticato al servizio e ha una chiave di sessione che può utilizzare per parlare con il servizio e quindi poi come viene utilizzata quella chiave su un affari del servizio Kerberos ci assicura che tutto è andato bene fin qua ok il pack viene utilizzato di nuovo adesso nel senso che il servizio adesso effettivamente l'intera struttura l'intero protocollo effettivamente adesso se ne fa qualcosa del pack perché è in questo momento che il pack serve perché è in questo momento che effettivamente gli vengono assegnati dei privilegi a questo utente per questo servizio ok se è richiesta appunto l'authenticazione c'è anche un messaggio extra per far sì che il servizio si autentichi all'utente in realtà questo messaggio qui è opzionale e potenzialmente poteva essere fatto in ciascuno degli scambi prima di fatto non viene mai fatto nel senso che nelle interazioni di default questa cosa non c'è praticamente mai la metto giusto per completezza quindi questo è il recap generale utente non autenticato chiede il TGT con la pre-authentication se va bene il domain controller gli dà il TGT che ha dentro di sé la session key e gli dà la session key cifrata con la password dell'utente con la chiave associata alla password dell'utente l'utente adesso può chiedere i ticket per i singoli servizi quindi fa la richiesta per avere un ticket per un servizio il domain controller se la richiesta va a buon fine che vuol dire che l'utente deve dimostrare di sapere qual è la chiave dentro il TGT gli ridà un ticket di servizio con un'altra chiave effimera che stavolta l'utente utilizzerà per comunicare con lui l'utente gli fa vedere al servizio il ticket di servizio e dimostrare di sapere qual è la chiave contenuta dentro il ticket di servizio se tutto va bene l'utente è autenticato siamo? è un casino lo so bene? una domanda se il time stamp è sballato per la macchina autente lui non si può più logare esattamente deve allineare il clock prima con NTP quello che vuole tecnicamente questo tipo di autenticazione si chiama challenge implicita perché la challenge implicita è il time stamp una cosa che non ho detto che però c'è per tutte le richieste gli authenticator vanno controllati che non siano già stati utilizzati cioè un client non può usare due volte lo stesso authenticator lo stesso time stamp proprio lo stesso authenticator in chiaro perché? perché se no è vulnerabile a replay il messaggio cioè un attaccante può intercettare quel messaggio lì e rimandarlo al domain controller e l'attaccante sarebbe autenticato perché ha preso l'authenticator giusto motivo per cui sia su ogni servizio sia sul domain controller è implementata in realtà una cache dove sono salvati tutti gli authenticator e se vede arrivare due volte lo stesso authenticator per lo stesso utente gli dice no questo non va bene questo è un replay vai via ci sono anche controlli sulla sincronicità tra i vari clock no questo non è previsto dal protocollo si assume che è una delle soluzioni del protocollo quindi uno potrebbe sfruttare una scelta temporale del client ad esempio per avere no perché il domain controller nella cache la cache non è infinita se non avessi il concetto di timestamp meglio la cache non è infinita nel senso che oltre ad essere ho detto una cosa mentre parlavo il timestamp si assume essere fresh cosa vuol dire che deve essere all'interno di un certo clock skew viene chiamato una certa deriva dei clock di solito qualche minuto prima o dopo se il timestamp non è dentro questa finestra è inutile quindi di fatto non si può sfruttare neanche quello un'altra cosa che potrebbe essere sfruttata ma che in realtà è pensata anche quella dal protocollo è se il ticket di servizio i ticket questi qua hanno una durata ok quindi questo quello rosso dura fino a ora tal dei tali quello di servizio dura fino a ora tal dei tali il protocollo dice che quello di servizio non può durare più del TGT e il perché è perché se questa chiave viola qua viene compromessa un attaccante potrebbe scoprire qual è il TGS perché può decifrare questo messaggio qua e lui durerebbe più del TGT se questo se questo ticket qua ti permette di avere un altro TGT sei finito motivo per cui è bounded anche questa cosa servizi interessanti da cercare ne parliamo dopo altra domanda si potrebbe mettere un controllo sulla copia del pack dentro domain controller cosa vuol dire? il pack del TGT il pack come è ottenuto è il domain controller che si fa una query da sola per ottenere la lista dei gruppi dell'utente e questa lista di utenti è messa paro paro messa paro paro dentro al TGT da lì in poi il domain controller fa finta che quel pack non esista più semplicemente se lo copia e se lo incolla c'è un altro caso in cui può essere ricontrollato ed è durante non basterebbe che fosse R sì 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 basterebbe solo quello sì sono d'accordo viene fatto non sempre viene fatto solo a volte da quel che ho capito viene fatto solo a volte durante durante la delega durante i meccanismi di dialog perché durante i meccanismi di dialog lui deve parlare con lui e quindi hanno la possibilità di scambiarsi messaggi da quel che so sì 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 assolutamente sì ci sono delle GPO per decidere che tutti gli utenti abbiano delle password sicure per lui le password sicure mi pare che siano almeno 8 caratteri e 2 fra 3 requisiti che sono maiuscola carattere speciale numeri una roba del genere è impostabile la GPO cioè questa GPO qua e la GPO vuol dire che ti garantisce che tu abbia una password di almeno 8 caratteri con almeno 2 di queste 3 cose cioè carattere speciale maiuscola e numero brutale 8 caratteri di password se c'è una cifratura particolare che adesso vediamo perché adesso parliamo delle KDF lo fai in ore tutte le password quindi indipendentemente che tu stia cercando solo 2 di questi 3 parametri non sono saltate le password? no le password non sono saltate anche perché è una domanda non giusta tecnicamente perché noi applichiamo una KDF e non stiamo facendo hashing necessariamente KDF è una KDF e vedrai anche qual è la KDF adesso riderai ok? questo è il protocollo di base e direi che altro da dire non ce n'è per un momento KDF questa è la KDF di default che è stata di default per non so quanto tempo perché? perché RC4 HMEC MD5 è la modalità di cifratura legacy è stata quella in utilizzo per un fracco di tempo mi pare che dalla release di Windows Server 2016 abbiano messo AS di default una roba del genere la KDF è semplicemente l'MD4 del encoding UTF 16 little endian della password prendi la password esci in MD4 quella è la tua chiave perché questa roba fa schifo in sé per sé l'hash lo rompi solamente bruttando è ok è quello come tutti gli hash nonostante MD4 sia deprecato qual è il problema che un attaccante ci mette pochissimo a bruttare questa roba perché questa qui è un'operazione leggerissima quindi può fare tantissimi tentativi in una determinata unità di tempo la direzione verso quale stanno andando tutte le KDF moderne è di avere un tempo di esecuzione che sia accettabile lato usabilità ma che sia il più scomodo possibile per un attaccante che sia il più alto possibile per un attaccante questa roba qua è velocissima per tutti e non ha senso è stupidamente veloce questa roba cioè sulla mia GPU MX150 della Nvidia che è tipo la base della base faccio decine di miliardi di tentativi al secondo cioè non ha senso troppi e chiaramente tutti i messaggi non l'ho detto però è implicito sono cifrati con un meccanismo AI e D quindi sono cifrati e autenticati le chiavi almeno questo hanno avuto l'accortezza di farle diverse l'idea è sempre quella delle KDF moderne cioè fai un giro di key rotation quindi prendi la chiave vecchia derivi la chiave nuova lo fai letteralmente nello stesso modo la chiave nuova è soltata ma non è davvero soltata nel senso che di fatto questo solto è fisso ed è noto quindi di fatto è come se non ci fosse e con questo otteniamo una seconda chiave che è la chiave per l'integrità e dopodiché generiamo il tag facendo utilizzando appunto la chiave dell'integrità e utilizzando i dati in chiaro quindi di solito la prassi sarebbe di utilizzare i dati cifrati e loro nel 2005 usavano quelli in chiaro e quindi ce lo otteniamo così questa è la cosa più bella che può capitare un attaccante nel senso che se riesce a setappare un attacco di brute force questa è la condizione migliore ed è la condizione a cui noi vogliamo tendere se possibile è sempre possibile averla? no per due motivi uno questa cifratura può essere disabilitata e può essere tenuta solamente a S che invece adesso vediamo è molto più dura dal punto di vista degli attaccanti comunque probabilmente non adatta agli standard moderni ma sicuramente meglio di questo due se anche non fosse disabilitata perché servizio x legacy ha per forza bisogno di questo per funzionare fa un sacco di rumore nel senso che i difensori se monitorano l'ambiente si accorgono che questo coso qua sta venendo utilizzato dove non dovrebbe essere utilizzato la prassi sarebbe di ridurre al minimo l'utilizzo di questo schema di cifratura qua in servizi ben noti e se chiunque prova a utilizzare questo schema di cifratura al di fuori di quei servizi vuol dire che probabilmente sia stato compromesso e c'è un attaccante che sta provando a fare cose altro buon motivo per setupare qualcosa con questa cifratura qua se volete setupare un honeypot quindi se volete cercare di packare un attaccante baitandolo a utilizzare a fare un attacco di qualsiasi tipo su un servizio che espone questo tipo di cifratura c'è scritto il tipo di cifratura esatto si possono packare esatto esatto cifratura un po' più bella che speriamo sia usata perché per il momento da quel che so è la più la più dura è quella con AS piccolo fun fact qui vi ho messo i type 23 i type 17 18 17 AS128 18 e 256 perché all'interno di Kerberos sono all'interno di Active Directory sono gli interi corrispondenti a quelle cifrature li vi possono servire perché se volete brutarli su hashcat ci sono quei numerini lì di fianco nell'ash quindi potete riconoscere con che cifratura sta venendo avete il ticket insomma da quei numeri lì che kdf utilizza ES utilizza una kdf vera che è pbkdf pbkdf è 2 è uno standard per key derivation function basato su password pb sta per password base kdf ok perché sta roba è bella sicuramente più bella dell'altra perché c'è questo questo parametro qui iter count è il numero di ripetizioni fondamentalmente non necessariamente dell'ash perché in realtà pbkdf dentro ha tutto un meccanismo strano però il numero di ripetizioni potete immaginarlo concettualmente come il numero di ripetizioni degli hash che vengono fatti prima di avere effettivamente la chiave fuori questo di default è 4096 quindi di fatto vanno fatte 4096 operazioni per ottenere la prima chiave che rispetto a prima che dovevate fare uno ed era effettivamente un hash direi che sia molto meglio comunque per un utente che si deve effettivamente autenticare è poco perché tenete anche conto che l'utente sa già quella giusta quindi la calcola una volta e poi mai più un attaccante che se la deve calcolare miliardi di volte per provare a brutare pesa e pesa tanto su questa andate discretamente volte più piano rispetto a quella di prima infatti è il motivo per cui prima dicevo che nonostante questo sia molto meglio di prima per un attaccante moderno che utilizza dei SOC comunque delle architetture dedicate a questo tipo di calcolo probabilmente ancora non basta sì sì Argon è lo stato dell'arte ma Argon è proprio cioè queste KDF qua sono CPU bounded fondamentalmente Argon è memory bounded è se a parità di investimento lo speed up che guadagna un attaccante su una su una computazione memory bounded è molto meno rispetto a quello CPU bounded quindi è proprio un'architettura interna che è pensato diversamente no solt di default solt di default solt di default sì fun fact che non ho detto ed è una chicca che che c'è nell'RFC non so se sia effettivamente implementata di fatto quando un utente fa le richieste quindi per esempio nei messaggi che terminano con REC fondamentalmente c'è un metadatto speciale nella struttura del messaggio che permette di specificare un solt quindi permette effettivamente di impostare quei solt che abbiamo visto nelle KDF serve a qualcosa? no perché se un attaccante è sotto la è sotto la sotto la assunzione che un attaccante può leggere il traffico l'attaccante può leggere il solt e può set upare lo stesso identico attacco semplicemente soltato l'unica cosa su cui si può guadagnare è quello che viene chiamato pre-computational quindi le rainbow table ok che di fatto non cioè di fatto un attaccante si mette lì e se la cracca non è difficile che si set up delle rainbow table per queste chiavi qua probabilmente esistono ma di fatto non vengono mai usate quindi ci sono ma non vengono usate e vabbè altro ok questo appunto è il default per le versioni moderne di active directory e utilizzatelo se vi capita passiamo a un po' di attacchi la prima cosa di cui parlo è fare numerazione degli user name da fuori un attaccante può capire quali sono gli user name che sono effettivamente user name validi per il dominio perché perché da rfc il domain controller dà due risposte diverse a questo messaggio qui se questo utente esiste oppure no proprio previsto da rfc se voi mandate un utente invalido lui ti dice guarda che non esiste questo utente qua se voi gli mandate un utente valido ma sbagliate la chiave vi risponde guarda che hai sbagliato la chiave quindi l'utente c'era ok l'idea qual è è che voi vi potete fare una lista di utenti più o meno probabili di solito questo step si fa dopo una fase di di osint sull'azienda quindi sapete più o meno chi sono le persone che ci lavorano dentro provate a ghezzare i modi con cui all'interno dell'azienda sono stati stabiliti gli user name prima lettera del cognome nome prima lettera del nome cognome eccetera e provate a utilizzarle se vi va di culo ne trovate qualcuno si può fare sia da linux che da kerberos da linux si fa con kerbrute da windows si fa con la versione compilata per windows di kerbrute kerbrute .exe questa roba è loggata sì se vengono abilitati i log specifici di kerberos kerberos ha dei log speciali all'interno del domain controller che devono essere abilitati manualmente di default non sono attivi uno di questi eventi che è 4768 segnala appunto il fatto che si sta provando ad accedere con un nome utente non valido e invece che dirci solamente guarda che un certo utente ha provato a loggare ma ha sbagliato la chiave quindi failed pre-authentication ok e questo qui è il modo con cui appunto si può paccare questa cosa altra cosa interessante è fare password spraying password spraying che cosa vuol dire voi provate avete degli username validi provate le password comuni su quegli username va fatto con molta attenzione negli ambienti veri perché rischiate di bloccare fuori quegli utenti e bloccare fuori un utente è un casino sia perché se voi siete pagati dall'azienda per fare un penetration test su di loro gli state causando un DOS fondamentalmente non bello sia perché bloccare gli utenti è rumoroso perché è una roba che viene loggata 100% e se un utente che ne so si presuppone quel momento non sia in ufficio sia a letto malato dovunque riceve un bellissimo lock dell'account probabilmente i blue teamers si fanno due domande motivo per cui questa roba va fatta con molta cautela se si può si fa dopo aver scoperto qual è la password policy del dominio la password policy è fondamentalmente la regola che vi dice dopo quanti tentativi viene bloccato l'account e per quanto tempo viene bloccato così poi avete modo di regolarvi con il numero di tentativi fatene comunque pochi alla volta perché i fade login attempts sono loggati di default quindi qui non abbiamo bisogno di abilitare dei log strani per poterli effettivamente paccare se i log di Kerberos sono attivati avete anche la free authentication failed che è la stessa cosa che veniva loggata anche prima per paccare la user enumeration si fa sempre con Kerbrut stavolta in modalità password spray altrimenti per Windows c'è anche uno script in PowerShell che si chiama domain password spray che fa esattamente questo si può fare anche da crackmap ex crackmap ex che è un tool che fa tipo tutto fa enumerazione del dominio fa questo tipo di attacchi fa prova a loggare con la stessa password su tutte le macchine tutti gli account che conosce eccetera 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 è un tool che è molto figo ok questo invece è l'attacco che vi dicevo se la pre-authentication non è attiva per un determinato utente qui la pre-authentication vi ricordo è il primo messaggio è il messaggio in cui non ci sono ticket semplicemente l'utente manda l'authenticator cifrato con la sua chiave quindi questa qui è la risposta che fa il domain controller se la fase di pre-authentication va a buon fine se la pre-authentication non è attiva di fatto voi potete andare dal domain controller dirgli hey io sono l'utente pinco pallo che non ha la pre-authentication attiva il domain controller vi dà un TGT per quell'utente paro paro qual è il problema? il problema è che il TGT è poi cifrato con la session key dell'utente quella scusate il TGT è incapsulato dentro un messaggio che è cifrato con la chiave specifica dell'utente quindi quella derivata dalla password voi potete set-appare un brute force qua perché voi potete tentare una password guessare una chiave blu decifrare quel messaggio derivare la chiave di integrità se il messaggio in chiaro fa tornare il tag e voi avete trovato la password ok e se ovviamente questa cosa è fatta su rc4 questa roba va velocissima se questa roba è fatta su as va meno veloce ma è sicuramente molto più veloce che fare password spraying quindi fare le richieste a manina che magari sono anche limitate perché avete una password policy brutta ok come si fa sta roba in una marea di modi la maniera più comoda da linux è usare in packet con questo script qua get np user non pre-authentication pre-authentication penso sia si può fare con rubus as-rap-roast è il nome dell'attacco as-rap-roasting as-rap perché è il nome del messaggio di risposta del domain controller nel caso in cui ottenete un tgt valido e come si crack un hash che ottenete da questi tool si cracka con tipicamente con hashcat che è quello più veloce se avete una gpu modalità 18200 per rc4 per as c'è un'altra modalità questa roba è questa roba è questa roba è logata con i log specifici di Kerberos quindi se quelli si sono abilitati lo vedete e di nuovo anche questa roba qui è comoda per per stappare un eventuale onipot quindi voi entrate come attaccanti scoprite fate numerazione del dominio scoprite che ci sono degli utenti senza pre-authentication voi potenzialmente potete decidere di attaccare perché così guadagnate altri accessi e in generale è comodo state attenti perché l'idea è che magari uno di quegli utenti è stato set up fatto apposta dal team di difesa altra cosa che è un grandissimo classico il Kerberos hosting il Kerberos hosting concettualmente è identico è la stessa identica cosa ma lo fate da utenti autenticati e lo fate sui servizi invece che su altri utenti l'idea è che quando voi ottenete un ticket per un servizio anche quello in realtà anche quel messaggio lì è set upabile per un attacco di brute force perché perché voi siete autenticati quindi la chiave viola la conoscete e voi potete andare ad attaccare il ticket perché il ticket è cifrato anch'esso con una chiave che deriva da una password voi gassate la password gassate quindi una chiave verde decifrate controllate l'integrità se l'integrità torna allora quella password che avete gassato è quella giusta di nuovo in rc4 bene in as meno bene però è sempre fattibile qui arriva la cosa che vi dicevo all'inizio i servizi possono essere erogati anche dalle macchine non provate a fare sta roba qua su un account macchina perché hanno password ingressabile se il servizio è erogato invece da un utente allora ha senso provarci come si fa? uguale a prima si fa si fa si fa sempre con in packet sempre con rubeus su windows cambia ovviamente la modalità di attacco di hash cut perché ovviamente stiamo lavorando su un hash diverso stiamo lavorando su un messaggio diverso e bla 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 si sempre le solite considerazioni poniamo invece un modello di attacco diciamo più forte cioè noi siamo riusciti in un qualche modo a entrare nel dominio come facciamo a forgiare ticket perché ci interessa forgiare ticket beh Kerberos è il metodo di autenticazione è il modo più veloce se abbiamo già compromesso il dominio non abbiamo bisogno di fare privilege escalation però magari ci interessa ottenere persistenza quindi poterci loggare nuovamente più avanti nel tempo cosa possiamo fare possiamo forgiare ticket come si fa a forgiare ticket beh per forgiare ticket di base abbiamo bisogno o delle chiavi dei servizi per cui vogliamo forgiare ticket di servizio o delle chiavi del domain controller per forgiare TGT le chiavi rosse le chiavi rosse che cosa sono in realtà sono delle password di un utente abbiamo detto che utente l'utente si chiama krbtgt krbtgt è l'utente nel domain controller che funge da account di servizio per Kerberos ok è un account ha una password se siete dentro al domain controller avete tutte le password lasciate avete anche quella avete il password lasciate e le chiavi di Kerberos queste chiavi queste informazioni sono contenute in un file speciale che si chiama ndts.dit ed è fondamentalmente il mega file dentro il quale è contenuto il database di Active Directory quello che su cui possiamo fare le query con l'edapp ok tra tutte le informazioni di tutti gli oggetti ci sono anche ovviamente le chiavi di Kerberos in particolare ci sono le chiavi di Kerberos per l'account di servizio che implementa Kerberos krbtgt quindi con quelle possiamo forgiare i cosiddetti golden tickets i golden tickets sono i tgt forgiati se invece vogliamo forgiare dei ticket per gli account di servizio allora stiamo forgiando dei silver tickets quindi i singoli ticket verdi ok nello schema di prima ovviamente se possiamo forgiarli possiamo decidere cosa metterci dentro possiamo decidere il pack possiamo fare ulteriore privilege escalation se è il caso questo si fa se per esempio il dominio che avete appena compromesso ha una che si chiamano trust relationship con altri domini la vostra azienda è talmente grande che ha acquisito altre aziende le altre aziende avevano anche loro un'architettura Active Directory cosa fate rifate tutto da capo e inglobate loro no fate una setup di una trust relationship e dite il domain controller della mia azienda adesso si fida anche del domain controller della nuova azienda che ho appena acquisito in questo modo se siete domain admin sul primo dominio potete anche andare a fare cose brutte sull'altro dominio fondamentalmente e questo è un modo per cui ha senso dire che questa cosa ti permette di fare privilege escalation ulteriore altrimenti tipicamente questa roba si fa per ottenere persistenza da linux si fa sempre con in packet perché in packet fa tipo tutto con uno script che si chiama ticketeer da windows si fa con mimikatz kerberos golden non lasciatevi ingannare serve in realtà per fare sia golden che in silver ticket semplicemente ha quel nome lì sta roba appunto è molto più difficile da detectare per il motivo che dicevo prima perché kerberos è stateless e non avete davvero modo di correllare bene i ticket che sono stati emessi un modo con cui si potrebbe al massimo scoprire che questi ticket non sono esattamente veri è perché ad esempio mimikatz so che mette alcuni campi diversi rispetto ai ticket originali o comunque ci sono delle leggeri differenze per esempio in uno dei campi del ticket che è il dominio ok c'è scritto da roba un po' diversa si riesce a capire da lì che il ticket è stato forgiato però comunque se sei un attaccante davvero intenzionato a fare le cose brutte pacci semplicemente il programma e sei a posto secondo voi ha più senso fare un TGT o un TGS adesso vi faccio una domanda per vedere se siete stati attenti lui lascia già la risposta perché gliel'ho già detto quindi ha più senso fare un TGT master quello del domain controller quello rosso o quello verde per i singoli servizi ha più senso fare può avere senso sì è il motivo per cui ti fai quello rosso perché così li puoi fare tutti è più stealth domain controller tipicamente è la cosa è la cosa loggata alla morte c'è tutto sul domain controller c'è loggato qualsiasi cosa se riuscite a trovare un modo per fare persistenza senza parlare col domain controller tanto meglio un modo per esempio è forgiarsi un etichetto invece di quello rosso quello verde quello di servizio e potete andare così ok altre cose da dire non mi vengono in mente poi devi trovare il modo di esportare il ticket su Windows se hai bisogno di quel ticket lì su Windows altrimenti in packet ha un bellissimo meccanismo tramite il quale tu salvi i ticket in file che non mi ricordo come si chiamano sono dei file dentro i quali c'è questo ticket tu puoi settare una variabile d'ambiente che dice in packet da ora in poi utilizza questo ticket qua che ti metto in questa variabile d'ambiente gli passi il path di quel file e ogni volta che utilizzi uno strumento di in packet se fai meno k cioè Kerberos authentication lui la prima cosa che fa è varrare quella variabile d'ambiente lì e utilizzare il ticket che tu gli hai segnalato quindi lo puoi anche utilizzare direttamente da Linux se il mimikaz lo vorrei caricare io sulla macchina e far tutto va bene esatto paccato ogni 3x2 questa cosa tutte le signature di mimikaz sono su qualsiasi su qualsiasi cosa per caricare cose brutte che sono sicuramente che sono sicuramente trovate basta che ricompili cambi le string basta dovrebbe bastare ricompilare il programma cambiando i simboli quindi le signature vengono alterate tipicamente la cosa che rimane costante cosa sono le stringhe per esempio dei menu cambia anche quelle in teoria dovresti avere buone possibilità di non essere paccato un altro modo con cui ti possono paccare è perché vedono per esempio che da powershell stai invocando un programma che si chiama mimikatto non si chiama mimikaz perché mimikaz sicuro te lo beccano e sei loggato un altro modo con cui ho letto essere più difficile paccare queste cose è che sulle macchine windows ci sono più eseguibili di powershell c'è un log integrato dentro gli eseguibili di powershell dalla versione 3 in poi mi pare però sulle macchine windows c'è anche una versione di powershell 2.4 qualcosa che non ha quei log quindi se utilizzi quell'eseguibile lì ti eviti un sistema di logging insomma questa è una bella domanda allora golden e silver ticket non non si basano sul concetto di freshness degli authenticator di prima hanno proprio un metadato all'interno che dice questo coso è valido fino a allora i golden ticket sono un macello nel senso se tu capi la password dell'account di servizio che implementa Kerberos dovrebbe essere comunque valida o no ok dovrebbe comunque essere valida sono le ultime due le password valide nel domain controller quindi tu cambi la prima è ancora valida la seconda quindi hai comunque modo di utilizzare il ticket che ti sei forgiato con la password più recente da standard sulla documentazione microsoft c'è scritto che se sei in un ambiente particolarmente grande devi dare il tempo al tuo domain controller di mettersi in contatto con gli altri domain controller che eventualmente hai se sei in un'azienda grande hai altri domain controller perché hai altri domini banalmente vuoi segmentare il dominio dell'IT dal dominio di business lo so ok o comunque hai proprio delle altre aziende che hai comprato devi dare il tempo di parlarsi fra di loro ti consigliano di aspettare otto ore per cambiare la seconda password e lì in mezzo puoi fare un po' quello che vuoi per i ticket di servizio in realtà non lo so come funziona il cambio della password di preciso sono quasi sicuro che se l'utente se il chi eroga il servizio è un utente anche lui ha un meccanismo simile per cui devi cambiare due password perché mi era capitato è capitato tipo ieri oggi avevo fatto delle robe avevo visto un ndts.dit e c'erano due password mi ricordo due chiavi quindi fresher credential e older credential quindi secondo me anche quello è su due password però lì non hai problemi di aspettare di cambi due volte e vai tipicamente ci metti un po' nel senso che quell'account lì poi ci mette un po' per effettivamente parlare col domain controller e aggiornare le credenziali però ci mette sicuramente meno di otto ore quindi puoi andare più tranquillo però quella è una cosa che dovrei guardare in effetti quello è una buona cosa sì sarebbe un buon punto di partenza volete fare una pausa? io sono stanco si può fare una pausa abbiamo mai fatto una pausa secondo me ce n'è bisogno di fare una pausa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In maniera legittima come invece abbiamo fatto fino adesso, a parte forgiare i ticket, ma sono cose che sono proprio errori di implementazione, quindi per me nella mia testa fanno voce a se stanto, sono dei CVE tipo. Questo qua si chiama Golden Pack, il nome in codice nel bollettino della sicurezza di Microsoft è questo qua. Golden Pack come funziona? Praticamente fino alla patch di novembre 2014 di Windows Server era possibile forgiare un pack arbitrario a patto che fosse sotto i 20 byte di lunghezza, perché per qualche motivo se il pack era lungo meno di 20 byte, poteva essere autenticato, quindi potevamo calcolarci il Mac senza utilizzare la chiave di integrità. Quindi semplicemente potevamo fare l'hash del pack che avevamo forgiato e quello andava bene, a patto che fosse sotto i 20 byte. Cosa si può fare in 20 byte? Si può mettere in qualche gruppo, in pochi gruppi. L'unico gruppo che ti serve davvero per fare una privilege escalation è essere domain admin, enterprise admin, quello che vuoi. E quello ci sta di dentro, quindi di fatto con questo diventavi amministratore di dominio partendo fondamentalmente da un utente autenticato. Esistono varie implementazioni di questo CVE, ci sono vari POC in giro. Ovviamente in packet ha la sua, perché sì, in packet ha tutto. E appunto come c'è scritto lì, è stato patchato a novembre 2014, quindi un tot di tempo fa. Ok, arriviamo nell'altro pezzo di presentazione, dove parliamo invece dell'altro protocollo di autenticazione che è in TLM. TLM è fondamentalmente un'alternativa a Kerberos, da quel che mi risulta dovrebbe essere abilitato di default sui domain controller. Buona prassi spegnerlo immediatamente. Ne esistono due versioni, v1 e v2, ovviamente nei protocolli moderni, nelle implementazioni moderni abilitata v2. È un protocollo anche questo, challenge and response, stavolta però esplicita la challenge, non era implicita come il timestamp di prima. In pratica, utente e il servizio verso il quale ci si vuole autenticare, utilizza il domain come trusted third party, quindi come terza parte creduta da tutti e due. Ma qui la differenza è che l'utente va a parlare direttamente con il servizio. Quindi l'utente interagisce col servizio ed è il servizio che valida la challenge, perché ovviamente il servizio non conosce la password dell'utente, quindi non avrebbe modo di verificare in sé per sé la challenge. Immaginatevi che di base l'idea è che l'utente parla con il servizio, il servizio gli dà la challenge, l'utente risolve la challenge, la dà al servizio, il servizio va a chiedere al domain controller se la challenge è giusta. Da questo protocollo di autenticazione nascono i due metodi di hashing che sono utilizzati in Windows, che sono l'anti-hash e l'lm-hash. Come funzionano? L'lm-hash è quello più vecchio di tutti e non ha senso, cioè è proprio la cosa più lontana da un hash cartografico che vi possiate immaginare. Ve lo racconto solo perché è, secondo me, un piccolo gioiellino. L'utente della password, la password dell'utente è convertita in uppercase come prima cosa, quindi se volevamo assicurarci di avere alta entropia in ingresso, no. La password può essere lunga al massimo 14 caratteri, fun fact. È incodata con l'utf-16-little-endian, quella è la stessa che c'era qui, sì, l'utf-16-little-endian. Immaginatevi che sia incodata nello stesso modo. Se avete una password più corta di 14 byte, la paddiamo fino a 14 byte. Dividiamo la password in due set da 7 byte. Quindi abbiamo 7 byte e 7 byte. Talvolta il secondo set è paddato, quindi non dovete nemmeno bruttare tutti e 7 i caratteri, ne bastano anche di meno. Questi due valori, questi due gruppi da 7 byte, sono utilizzati per diventare delle chiavi di DES. Perché sta cosa? Vi ricordo che DES ha chiavi da 56 bit. 7 byte per 8 bit sono 56 bit. Si arriva a 64 facendo il bit di parità di ciascun byte, quindi per ciascuno di questi 7 byte abbiamo il bit di parità e arriviamo a 64. Questo genera quindi due chiavi da 64 bit utili per avere due chiavi DES. Praticamente si cifra con queste chiavi questa stringa. E quello che viene fuori concatenato è l'hash. Dimmi. La password è che si tratta di UTF-16. UTF? No, non può essere a 16 perché altrimenti si sballa tutto. Però è una roba simile. Vabbè, comunque, viene incodata con una codifica standard perché sennò ovviamente ti rompe tutto. Sì, non può essere 16 character, chiaramente poi verrebbero 2 byte per ogni carattere. Immaginatevi che sia in un qualche modo codificata in maniera standard però. Questa roba è senza senso. Cioè, concatenate poi questi due ciphertext qua e siete a posto. Avete fondamentalmente un'entropia di 7 byte in cui ciascun byte può assumere praticamente 36 valori. Cioè, no. Questa cosa non è sicura per niente. L'anti-hash invece, se ci fate caso, è questo. Quindi di nuovo UTF-16 little-endian della password, dato in ingresso a MD4. Questa cosa è la stessa cosa, identica, di una chiave Kerberos per RC4. Quindi viene a mancare quella che in criptografia si chiama domain separation. Ok? Quindi voi avete lo stesso segreto che in realtà viene utilizzato in più cose. Perché questo è un problema? Eh, tenete conto che voi su Windows se siete o admin locale della macchina, quindi non siete su un account di dominio, siete semplicemente local administrator della macchina. Se siete un utente privilegiato nel dominio che può accedere come amministratore alle macchine, oppure se avete un privilegio speciale che si chiama S-debug, potete leggere la memoria dei processi. Nella memoria dei processi ci sono le credenziali. Le credenziali esciate. Ed esce questo. Quindi se voi ottenete questi, vi potete autenticare tramite NTLM a qualsiasi cosa su cui si può autenticare quell'utente. Potete anche passare da NTLM a Kerberos perché avete di fatto una chiave che potete utilizzare per cifrare con RC4. Meraviglioso. Ti dicevo che si bloccava la scheda acquisizione. Adesso si è bloccato. Cosa c'è qua? NTLM. NTLM. Ok. Ok. Muoviti. Si è bloccata la web. Ah, questo. Ok. Adesso si è sminchiato tutto. Altra pausa di 5 minuti. Un secondo. Eccola qua. Ok. Muoviamo la mano. Fatto. Andamati da slide. Non è mai una buona idea dirmi fare questa cosa. Eh, fai ripartire. Prenditi un attimo. Prometto che ne compro una migliore. Allora. Muoviti la slide. Adesso va. Ok. Stai già registrando? Sì, sì, sì. Ok. Perfetto. L'ho proprio messo in pausa. Sì, sì, sì. Meraviglioso. Guardate la diretta. Che non è in diretta. Ok, come funzionano questi protocolli? Allora, io qua su questa parte accelererei un attimo, tanto poi se volete sapere davvero come funziona questa roba, avete le slide. Di base la cosa è quella che vi dicevo prima, quindi il client si autentica direttamente al servizio, non passa attraverso il DC, è il servizio che poi utilizza il DC per assicurarsi che le challenge siano state risolte bene. Perché è il DC che ha le password fondamentalmente. Questo era appunto, questo qui è il protocollo V1, questo è il V2, e qui abbiamo detto tutto. Ok. Qual è la cosa interessante? Che, come ho detto prima, il domain controller non ha le password in chiaro, ha gli hash delle password al massimo. In particolare ha l'MD4 codificato UTF 16 little ending, delle password. È ok, però di fatto quindi questo qui è il segreto che serve quindi per risolvere per davvero le challenge, quindi non serve davvero conoscere la password in chiaro. Perché se il domain controller riesce a definire, a decidere se un utente ha passato o no la challenge avendo in mano l'hash della password, allora chiunque ha in mano l'hash della password può risolvere queste challenge. Come abbiamo detto prima, ci sono 2000 modi per estrarre questi hash anche dalle macchine locali, perché basta leggere, basta essere in un qualche modo in grado di leggere la memoria. E noi attraverso questo protocollo, allora, possiamo set upare quello che viene chiamato pass di hash attack. Ovvero, possiamo essere in grado di autenticarci utilizzando un TLM su qualsiasi cosa su cui quell'utente si può autenticare, utilizzando l'hash della password senza nemmeno il bisogno di decifrare, di bruttare quell'hash. Quindi senza nemmeno sapere qual è effettivamente la password che c'è sotto. Questi hash comunque sono bruttabili, ovviamente, sia quelli che ottenete leggendo dalla memoria, sia quelli che riuscite a intercettare dalla rete. Perché comunque, questo qui è un protocollo che richiede che i client comunicano in rete, se riuscite a intercettare gli hash che passano. Gli hash sono particolarmente deboli perché non sono tipo la KDF e DAS, che sono una roba gigantesca da craccare, sono al limite l'MD4 della password, e quindi avete un metodo di brute force molto più veloce potenzialmente. Altre cose divertenti che si fanno con questo protocollo è sta roba qua. Quello che viene chiamato LLMNRNBTNS poisoning, cos'è sta roba? Fondamentalmente questi due sono due protocolli che servono per fare da fallback, nel caso in cui una richiesta DNS viene a mancare. Cioè se un client fa una richiesta DNS e il DNS non riesce a rispondergli, perché non ha quel record, è stato eliminato per qualsiasi motivo, l'utente ha sbagliato a scrivere il dominio per qualche motivo, e di fatto il client va a chiedere al server DNS un record che non esiste. Cosa succede? Windows ha questi due protocolli di fallback. Quindi invece che dire ok, questo coso non esiste, fa prima due cose. Di base funzionano nello stesso modo questi due protocolli. L'operazione che adesso vi descrivo viene fatta una volta per lui e una volta anche per lui. Qual è questa operazione? Il client manda in broadcast il record che non è riuscito a risolvere. A tutti. E tutti possono rispondergli potenzialmente, se conoscono quel record, per qualche motivo. Un attaccante cosa fa? Gli dice, sì sono io questo tizio, autenticati a me, con NTLM. E il client parte da autenticarsi. Quindi abbiamo trovato il modo per fare una specie di man in the middle che può catturare le credenziali NTLM. Le credenziali NTLM, come ho detto prima, sono strafacili da brutare, nel senso che sono veloci. L'operazione richiesta è poco costosa. Di conseguenza abbiamo un modo facile per ottenerci delle credenziali facili da brutare, senza nemmeno passare per fare richieste Kerberos RC4, che come abbiamo detto potenzialmente sono loggate. Si può fare di più, perché di fatto il client non si autentica davvero al server. Il server, scusate, il client non richiede mutua autenticazione con il server. Quindi se noi diciamo, sì quel record DNS strano che non sei riuscito a risolvere sono io, posso autenticarmi. Il client ci manda, noi gli possiamo dare una challenge, ma la challenge possiamo anche non dargliela noi, possiamo farcela dare da un servizio su cui abbiamo davvero interesse di autenticarci. Che ne so, quel client lì è un client, è un client tipo è un domain admin. Ok, proviamo ad autenticarci sul domain controller come domain admin. Vado a chiedere al domain admin, al domain controller, le challenge di NTLM. Io me le prendo, le do al client che si sta provando ad autenticare, il client mi risponde perché prova a risolvere le challenge e io ho ottenuto un modo per fare man in the middle contemporaneamente autenticandomi però al domain controller. Questo attacco un po' confuso che vi ho appena detto è il relay attack e consiste fondamentalmente appunto nel riuscire non solo a intercettare le credenziali ma anche a sfruttarle per autenticarci a nostra volta verso un target sensibile. e per NTLM più o meno la cosa che vi volevo raccontare era questa. Ok, altre domande? Ci sono qualcosa? Ok. Entriamo allora nell'ultimissima parte della presentazione. Questa è la parte un po' più difficilotta nel caso in cui consideraste la parte finale adesso facile. Attacchi alle delegazioni, alle delega. Che cos'è il meccanismo di delega? Fondamentalmente immaginate questo scenario. Io sono un client, mi voglio autenticare su un servizio. Quel servizio però ha bisogno di altri servizi per funzionare. Quindi quel servizio a sua volta deve fare, che ne so, delle query a sequelle, deve fare delle, deve accedere a delle shares attraverso Samba, eccetera. Ok? A sua volta quindi anche il servizio si deve in un qualche modo autenticare ad altri servizi. L'idea qual è delle deleghe? Che se fosse il servizio ad autenticarsi agli altri servizi, non ci sarebbe modo di avere un controllo dei permessi granulare. Perché quell'accesso sarebbe visto semplicemente come l'accesso di un servizio verso un altro servizio. Qual è l'ideale? È che questo secondo servizio abbia gli stessi privilegi d'accesso che l'utente aveva sul primo servizio. Ok? Quindi che io servizio acceda al server SQL con gli stessi privilegi del client. Ok? Come si fa sta roba? Si fa con le delega. In pratica possiamo dire che i servizi, nel caso dell'unconstrained delegation, possono autenticarsi a qualsiasi altro servizio per conto di altri utenti che sono stati autenticati prima sul servizio che può delegare. Ok? Come dico qui, non avevo voglia di rifare davvero tutte le slide con tutti i passaggi del protocollo come le avevo fatte prima, perché ero… perché no? Basta. Utilizzo le slide di Atlas. Atlas è un red teamer che insegna in università anche in Spagna. Ci sono dei video molto belli che spiegano sia come funziona… Le video suoi molto belli che spiegano sia come funziona il protocollo, quindi tutte le interazioni di base che vi ho fatto vedere prima, ma spiegano anche tutti i vari passaggi che ci sono nelle delega, perché come ho detto all'inizio ce ne sono tre di tipi di delega, questa è solamente la prima. Ok? Sono molto belli. Quindi lo scenario abbiamo detto è questo. Io ho un utente, si vuole autenticare un servizio, il servizio però ha bisogno di altre cose per funzionare. Io voglio che il servizio, quando si autentica a questi cosi, si autentichi come l'utente iniziale, perché così abbiamo un miglior modello di permessi, perché stiamo fondamentalmente applicando il principio del minimo privilegio, cioè quando lui si autentica a lui, si autentica come l'utente di base e quindi abbiamo i privilegi giusti per l'utente che sta facendo queste operazioni. Come funziona? La prima parte, appunto le slide sono quelle di Atlas in questo momento, fino a questo punto qua, è tutto uguale, ha l'autenticazione di base. Per cui l'utente chiede un TGT, il domain controller glielo dà, l'utente chiede un service ticket per il server HTTP, nell'esempio, che poi ha bisogno di altri servizi per funzionare, e quando l'utente fa questa richiesta, deve specificare anche l'SPN, che è quello del servizio a cui si vuole autenticare. In questo momento il domain controller può rendersi conto che quel servizio lì può fare la delega, perché ovviamente il domain controller sa tutto, quindi sa anche quali sono i servizi che possono delegare. Perfetto. Il domain controller, quindi, quando va a verificare questa cosa, si accorge che HTTP può fare un constraint delegation, per cui manda indietro un TGS che ha un flag speciale che dice hey, questo servizio qua, utente, può fare un constraint delegation per funzionare, deve fare un constraint delegation per funzionare, perché altrimenti non funziona. Quindi l'utente adesso sa anche lui che il servizio per cui ha appena fatto la richiesta ha bisogno di questa, può fare questa cosa speciale. Come fa lui a fare questa delega? Beh, il protocollo, e questa parte di protocollo è specificata proprio nell'RFC, lui, per poter fare le richieste per conto di quest'utente, ha bisogno di una copia del Ticketmaster dell'utente. Quindi non gli può dare questo, perché abbiamo detto che è un'altra copia. Quindi, prima di andare a parlare direttamente con il servizio, cosa che potrebbe fare, perché il Service Ticket lui in questo momento ce l'ha, l'utente va prima a chiedere un altro TGT. TGT, come fa a richiederlo? Fa una SREC, però specificando come SPN, KRB TGT. KRB TGT, se vi ricordate, è il nome dell'account di servizio che implementa Kerberos. Ok? Lui si accorge, hey, mi hai chiesto un altro TGT. Ok, ha senso, perché il Ticket che mi hai richiesto è un Ticket per un servizio che può fare delegazione. Quindi tu, quando mi hai fatto questa richiesta, mi devi aver settato che questo Ticket che tu vuoi avere è un Ticket forwardable, quindi un Ticket che può essere inviato a qualcun altro. Infatti il DC si accorge di questo flag speciale nella richiesta e quello che gli manda indietro è un TGT che contiene, è un TGT esattamente identico all'altro. Cifrato con la chiave del domain controller, dentro c'è un'altra chiave di sessione, chiaramente, diversa da quella del TGT originale di Vegeta, ma ha un flag speciale settato che è quello appunto che dice questo TGT lo puoi mandare in giro, lo puoi forwardare. Per cui Vegeta decifra il messaggio, ottiene il nuovo TGT, ottiene la chiave di sessione contenuta nel TGT e si accorge, appunto, verifica effettivamente che il TGT che ha ricevuto sia forwardabile. A questo punto cosa può fare? Beh, l'idea qual è? Che questa chiave di sessione qui, nel nuovo TGT, sarà poi la chiave che il servizio utilizzerà per chiedere degli altri ticket verso il domain controller. Quindi in un qualche modo anche questo servizio qua deve conoscere quella chiave lì, perché altrimenti non si può autenticare. Vi ricordo che l'utente si considera autenticato per Kerberos se dimostra di conoscere la chiave all'interno del ticket. Cosa fa quindi l'utente? Nell'authenticator, ok, non cifra solo il timestamp, cifra anche il TGT, cifra anche la chiave contenuta nel TGT. E quando manda la richiesta per accedere al servizio, l'API request, manda il ticket, perché ha sempre bisogno del ticket, ma manda anche questo autenticator speciale che contiene al suo interno il TGT e la chiave contenuta all'interno di questo TGT. Il servizio può decifrare sta roba, certo, perché questa roba qui è ovviamente cifrata con la chiave contenuta nel ticket, la chiave che qua è indicata come rossa. Di conseguenza, se il servizio può decifrare l'authenticator, può decifrare anche la chiave di sessione contenuta nella copia del TGT e il TGT stesso. Quindi ora il servizio ha una copia del TGT dell'utente che sta provando ad accederci, ok? Come fa a richiedere il servizio i ticket per conto dell'utente originale per gli altri servizi? Fa quello che è esattamente la stessa cosa che farebbe l'utente normale se dovesse richiedere un ticket per lui. Però semplicemente lo sta facendo il servizio invece che l'utente. Ok? Quindi il servizio chiede un ticket per chips per conto dell'utente Vegeta esibendo il TGT di Vegeta, dimostra di conoscere la chiave all'interno del TGT cifrando l'authenticator con questa chiave, il server dice sì, tutto giusto, mi torna, gli ritorna indietro il service ticket per Vegeta, per chips, il server HTTP può decifrarlo, può scoprire qual è la chiave del ticket e utilizzarla per autenticarsi al servizio, il servizio dice sì, ok, mi torna, questo qui è un service ticket valido perché tu conosci la chiave che c'è dentro, mi torna tutto, eccoti la chiave di sessione, qui poi loro si parlano e il servizio fa quello che deve fare per funzionare, e la richiesta torna indietro. Ok? Quindi l'idea dell'unconstrained delegation è che semplicemente il servizio verso il quale un utente si va ad autenticare riceverà anche una copia del ticket master dell'utente, non è una copia 1 a 1 del ticket originale del client perché dentro c'è una chiave diversa, ma è sempre un ticket valido, con cui il servizio può richiedere un ticket di servizio per l'utente originale, il fatto che però la delegation è unconstrained vuol dire che il servizio può chiedere qualsiasi cosa, può chiedere qualsiasi servizio, ok? Anche servizi che non gli servono davvero per funzionare. Ne puoi chiedere uno qualunque. L'idea quindi qual è? Che quando è stato pensato questo protocollo qui, il modello d'attacco, l'attaccante si presupponeva essere praticamente l'utente, perché l'utente invia le sue credenziali al servizio e poi si pensa al servizio a ottenere i ticket che gli servono per funzionare. L'utente invece no, l'utente deve stare fermo, l'utente non può fare niente, nel dubbio noi gli facciamo fare niente. What if l'attaccante non sia l'utente ma sia il servizio? Eh, il servizio si può autenticare come l'utente che lo ha ceduto, ma verso qualunque altro servizio. Quindi può impersonare tutti gli utenti che si autenticano a se stesso. Aggiungiamo un'altra cosa. Mettiamo caso che ci sia un meccanismo all'interno di tutto Stambaradam qua, che permette al servizio, che è stato compromesso dall'attaccante, che è la Unconstrained Delegation, di farsi autenticare da un utente che vuole lui. Questa cosa è sgrava perché vuol dire automaticamente Privileged Escalation. Perché? Ovviamente il servizio si sceglie un utente privilegiato, un utente privilegiato si autentica al servizio, il servizio in questo momento diventa possessore di un TGT di un utente privilegiato e l'attaccante prende questo TGT perché se ha compromesso il servizio, verosimilmente sarà admin di quella macchina, di conseguenza può leggere la memoria, prende il TGT ed è diventato quell'utente privilegiato, automatico. Esiste una cosa del genere? Quasi. Perché? Praticamente, se vi ricordate all'inizio, ho citato un'altra tecnologia che ancora non ho ricitato. Ho citato LDAP, ho citato Kerberos, ho citato NTLM, ma c'era anche MSRPC. MSRPC implementa un servizio nei domain controller che è lo spooler di stampa. Lo spooler di stampa ha una bellissima funzione che permette all'account macchina del domain controller di autenticarsi a qualsiasi cosa. Quindi un utente autenticato può andare da RPC del domain controller con il servizio di spooler attivo, dirgli, hey, autenticati a me, che sono un servizio con Unconstrained Delegation. E lui lo fa. Quindi abbiamo un account macchina che si autentica al servizio con Unconstrained Delegation. L'account macchina del domain controller è praticamente la stessa cosa di essere domain admin. Perché siete in completo controllo della macchina su cui gira il domain controller. Ok? Faccio vedere velocemente un esempio di attacco. Faccio vedere solamente gli screenshot dei comandi. Rubeus. Rubeus è appunto uno dei tool che abbiamo visto prima. Rubeus è molto molto comodo per gestire i ticket di Kerberos. Nella modalità monitor appunto letteralmente quello che fa è vedere tutti i ticket che vengono passati alla macchina, che passano attraverso quella macchina. Quindi noi adesso ci stiamo immaginando che siamo sulla macchina che ha Unconstrained Delegation. Quindi siamo su questa macchina qua. L'abbiamo compromessa, possiamo leggere la memoria, possiamo leggere i ticket che gli vengono passati. Quindi vediamo i ticket. L'idea è che se qua ci arriva un ticket di un utente privilegiato, noi possiamo utilizzarlo. Un TGT di un utente privilegiato, noi possiamo utilizzarlo. Sempre con Rubeus possiamo chiedere i TGS, gli passiamo il ticket, gli chiediamo, gli diciamo qual è il servizio per cui chiedere il TGS. Il ticket di servizio è fondamentalmente accedere al file system di una macchina. In questo caso gli stiamo chiedendo di accedere al file system del domain controller. L'idea è che quel ticket lì è il TGT di un utente privilegiato. Quindi noi non abbiamo problemi a utilizzare, a ricevere questo ticket, che è questo qui. Questo qui è il TGS che abbiamo richiesto. PTT vuol dire che automaticamente questo ticket viene inserito nella lista di ticket che noi possiamo utilizzare. Quindi viene caricato in memoria. E adesso possiamo fare eventualmente un Renew. Il Renew serve semplicemente per il caso in cui ci sia qualcosa che è andato storto. Di solito la cosa migliore da fare è rinnovare i ticket, cosa super rumorosa da fare. Però se non sta andando niente e siamo in un ambiente in cui ci possiamo permettergli di farlo, può essere un modo per uscire dai guai. E dopodiché quel ticket lì noi lo possiamo utilizzare. Per cui possiamo fare dir della macchina remota root directory. E quindi vediamo la root directory del domain controller in questo caso. Fico. La presentazione è finita qua. Qua ci sono tutte le reference. E basta, se avete domande. Vi ho stesi. Sono perfetto per le due ore. Io ho finito. Bravo. C'è una domanda? Direi che sia una domanda. La tua.